Il vincitore l'abbiamo scelto perché la sua collezione è una collezione completa, ha una capacità di interpretare una donna molto precisa che ha scelto, ha una capacità di fare delle stampe e disegnando le proprie stampe, ha la capacità anche di vestire una donna e di renderla anche possibile, oltre che bella e anche innovativa. Il vincitore è... Il mio nome è Milita, ho la designer di Corian, l'idea di Bauhaus, dove form follows function e God is in the detail, è una cosa che mi ha ancora inspirato in questa collezione. Il mio nome è Salvatore Piccione e la mia collezione è inspirata da animali e animali in generale, e la mia collezione deve essere veramente vivente, tutto deve volerlo. Il mio nome è Daisy e ho usato color molto brillante, il mood della collezione è una famiglia fondamentale. Ciao! Consigli è la mia collezione con le persone che ne vedono così. Sicuramente le persone che non ci vedono così, è un luogo che non ci vedono. Il c'è anche un luogo che è la mia collezione, perché la mia collezione è una collezione e la mia collezione è una gierma in cui Benvenuti alla decima edizione di questo concorso E' super exciting and stressed and I hope everything will be ok So finally I got what I want, this is what I want I came here, I've been working hard and this is what I want Non posso anche pensare in italiano, allora sono contentissima I can't even speak, I'm super excited, my hand is shaking And it was for me the biggest day and the biggest opportunity Yes and viva And viva salas Brav Grav Grav